Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Allora ragazzi io avrei già registrato un episodio di MondiCubi e sinceramente non penso che lo metterò Perché è venuto veramente una schifezza E' veramente venuta una cosa orribile perché praticamente sono andato in miniera adesso ragazzi no? E sono morto in un punto bastardo in mezzo alla lava E adesso vi andrò anche a farvi dire dove sono morto E ho perso praticamente tutto quindi adesso mi sono dovuto rifare tutto E ho passato praticamente tutto l'episodio ad andare su e giù, andare giù e morire Tornare su perché mi rispaunavo, andare giù e morire, tornare su, andare giù e morire Andare giù e morire, andare giù e morire, andare giù e morire, 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 morire E basta Quindi io non voglio assolutamente rompervi le scatole E off camera avevo fatto un po' di lavoro Vi faccio anche vedere adesso Tanto dovremmo essere abbastanza salvi adesso Avevo fatto un paio di lavoretti Allora qua con le ossa ho fatto crescere un po' tutto E le ossa logicamente per chi non lo sa le ho prese dalla farm di scheletri Che ho perfezionato in un modo Allora praticamente mi avete detto di andare attraverso un ascensore automatico O un pianto di minecart A livello del mob spawner per renderlo più veloce Cioè io ho calcolato che il mob spawner era relativamente in superficie Quindi ho fatto uno scavo enorme di questo tipo Sì è una nerdata lo so È una cosa veramente inconcepibile fare uno scavo così Però ho fatto questo scavo E tutto di slab Quindi sopra non si spawnerà niente E ho ottenuto anche la cobblestone Tra virgolette l'ho ottenuta apposta Non è che ho voluto fare le cose in cobblestone perché costano meno Ma l'ho voluta fare in cobblestone questa volta perché La cobblestone ha questo colore grigio E voglio ottenere un colore grigio per tutta la farm Ditemi adesso nei commenti Adesso vi faccio anche vedere un attimo Quale preferite tra questi due stili Allora ho in mente questo stile qua con i marmol brick Oh dio marmol brick Gli stone brick li chiamo sempre marmol brick ragazzi Da quando gioco minecraft non so perché Con questo vetro scuro Oppure anche con dei pannelli uguale Non scuro grigio chiaro scusate E stacca abbastanza con la cobblestone Oppure fare pure queste cose qua in cobblestone In modo da attaccare Io sinceramente direi che le posso fare così dai Così stacco un pochettino E tengo questo legno qua Sì dai alla fine farò così Ho deciso LOL Allora Quindi Usciamo Torniamo nel nostro Torniamo da dove siamo venuti Non so perché sono andato nei server Non chiedetemelo Torniamo da dove siamo venuti Ok E cerchiamo di stabilire il punto centrale Poi penso che tornerò in miniera Allora 1,2,3 Anzi aspettate posso fare una cosa più furba F3 Dove è F3? Eccolo qua F3 sono a Meno Meno 745 Vado di qua E arrivo a Meno 723 23 Ok da 23 Devo arrivare a 45 Ok quindi ho circa 22 Sì 22 se non sbaglio Blocchi Cazzo 22 blocchi Mi viene Dispari Sì Quindi devo inventarmi qualcosa Mi servirebbe Pari Quindi tipo partiamo di qua E di qua E otteniamo il punto centrale Ah di qua praticamente il punto centrale Ok E io potrei tipo basarmi come punto centrale su questo? No Perché non è corretto Boh Ci penserò ragazzi off camera Adesso pensiamo piuttosto Ad andare a dipigliarci Alla nostra roba che abbiamo perso in caverna O meglio A pigliare altre cose Perché quello che avevo È giustamente Come ci ricorda la nostra chat Ah no la nostra chat no Perché ho cambiato mondo Bruciato nella lava Si è bruciato nella lava E Uno dei fail più epici E ho deciso di fare una cosa ragazzi E a questo episodio in poi Mi impegnerò a non morire Lo so adesso Haha Se tutti lì che ridete Oh Ferre che non voglio morire Io non morirò ragazzi Io non morirò Eh no davvero adesso voglio provare Seriamente A non morire E Vedere un pochettino Se ci riesco E cos'altro Allora adesso vediamo di Prendere un po' di questo carbone Buttarlo qua Altri picconi non ci servono Abbiamo del cibo 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 Ce l'abbiamo già E Cubi Cubi Non ci servono Però posiamo questa preziosa Stone Che ci servirà invece E Ho cercato anche la clay Della clay che stasse bene Con Per fare quella farm Ma sinceramente Non ho trovata nessuna E Quindi ho deciso di non usare clay Almeno per questa costruzione Tanto Sinceramente ragazzi Dove Dove è il bioma È la Bioma Abbiamo il bioma della clay Quindi possiamo Veramente usarne Quanta vogliamo E Comunque ragazzi Comunque 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 Adesso prendo un po' di legno Perché ci serve un po' di legno Beh penso che Quest'albero già possa bastare Vero albero Albero Ok Andiamo un po' Si 5 possono bastare Prendiamo anche un po' di betulla Un po' di betulla Ok Un po' di betulla Perfetto E dobbiamo fare anche una farm di alberi Si lo so Andiamo a posare questa Redstrons E vediamo di Appunto posare la Redstrons E ritornare in miniera E ragazzi Ho in mente Diciamo 3 obiettivi al momento Allora il primo È andare in miniera E trovare dei minerali Cosa che sto facendo Secondo È finire La farm di scheletri Terzo È Dove In quella caverna là Dove sono andato Appunto Per quello che sono morto Sono andato subito In una caverna più difficile Cercare di fare un piccolo progetto Ovvero un pozzo Adesso ve lo andrò a far vedere Ve lo andrò A illustrare Fisicamente Ecco Che linguaggio forbito Che linguaggio forbito Allora Andiamo di qua Appendiamo tutti questi alberelli Che voglio Perché le alberelli Sono importanti Perché bisogna Prevenire la fauna No O la flora Sinceramente non lo so E non mi interessa Allora andiamo di qua No credo che sia la flora Si Flora di flower E fauna di Fower Che cosa sto dicendo Non lo so Allora andiamo di qua Ragazzi Vi faccio vedere il pozzo Eccolo qua Adesso mi butto Wow Volevo di fare una cosa del genere Che appunto Ci fa arrivare Alle altezze Che noi vogliamo Allora come esploro Io le caverne O almeno come cerco Di esplorare le caverne Non come sto facendo adesso Ovvero Cerco di esplorarle Illuminarle Illuminarle Vederle con voi Magari tra dei dungeon Tra delle cose del genere E poi Off camera O anche con voi Se non sono molti Ritrovare tutti quanti i minerali Ecco qua Sono morto Tipo 700 Mila Volte Tipo Ma che cacchio Stupido Scheletro Ti odio Dov'è il mio arco? Le mie frecce? Ah che odio Allora Tac 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 Sei morto da solo? Ah ma sei là? Oppa E ho E ho No Nia Uta Sei morto? Fantastico Allora Andiamo di qua Molto Fille e caninja Molto silenziosamente Ok Allora E pigliamo quest'oro Perché io adoro Avevo dell'orone alimentare E ho bruciato pure quello No perché Anche loro No Di qua Perfetto Sapevo che c'era un blocco sotto Ragazzi tranquilli Non scavo mai sotto i piedi Almeno questi eroi da principianti Non li faccio per favore Allora andiamo di qua E pigliamo Questo ferro Ok Ho notato che dico spesso E con spesso Intendo sempre Andiamo di qua Lo dico veramente tante volte Non so perché Però lo dico Andiamo di qua Andiamo di là Andiamo su Andiamo giù Allora Piliamoci anche un po' di cobblestone Che non guasta mai Tanto la cobblestone Siamo destinati A averne stack E stack E stack E stack E quindi rassegniamoci Subito all'idea Di poter Anche solo pensare Di non averne tanta Perché ne avremo Troppa Allora di qua Andiamo di qua ecco E pigliamoci E lo spegniamo Oddio Bruttissima persona Sto anche morendo Sì Me l'hai fatto notare Grazie Allora Rieccoci Scusate l'interruzione Ragazzi ma Mi devono sempre chiamare Quando sto registrando Allora Andiamo di qua Oh l'ho detto di nuovo Allora andiamo di qua Oh l'ho detto di nuovo E E Spegniamoci Questa lava Basta che Avete visto Quello che ho visto io Ragazzi Sì avete visto Quello che ho visto io Un dungeon Già il secondo Già Cioè ragazzi Io in meno di dieci episodi Ho già trovato Due dungeon Non ci credo Sì Un dungeon Spero che sia di zombie Stavolta Un dungeon di zombie Perché di zombie Non lo so però Lo voglio Le voglio collezionare Tutti i dungeon Perché sono Sono abbastanza sicuro Che un giorno Ci sarà un modo Per riuscire A Sì Secondo me di zombie Dai Io tifo zombie Stavolta Sono abbastanza sicuro Comunque spero Che un giorno Ci sarà la possibilità In minecraft Che cosa ho appena fatto Che cosa Ho appena fatto Adesso devo fare un numero Per poi andare di nuovo Sto ferro Il toro Ragazzi Che non avete idea Eh sì Giustamente Giustamente Devo fare una cosa Così Opa Ok Mamma mia Allora 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 Là c'è un dungeon Sì Dungeon Molto bene Pensavo fosse un altro dungeon Tipo scleravo Ok E No Odio trovare i dungeon doppi Ragazzi No Per i dungeon Ho abbastanza sedere Direi Ho abbastanza sedere Perché ne trovo Spesso e volentieri Comunque Uh qua c'è Altra lavetta Secondo me Potrebbe anche Sei di ragni Non lo so Allora Adesso controllo Sei di ragni Mi sa Sì sì Di ragni Sì sì Di ragni Di ragni Eh di ragni Eh beh va bene Mi manca Quello di ragni Sì sì Andiamo un po' Buonasera Ho detto buonasera Lei mi butta fuori casa Ma che 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 monella Che sei Monella Monella Eh lo so ragazzi Ho visto anch'io Giuseppe Simone Eh sì Se 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 volete essere Di youtuber Non potete non vedere Il video di Giuseppe Simone Perché Altre Ficca È stato ucciso Da un zombie Quando mai No ragazzi Questa veramente Me la sono persa Cioè stavo Come ho detto Contro il ragno E sono stato ucciso Da un zombie E poi Come Cioè Le zombie Non infligge Le danno così Ragazzi Questa non l'ho capita Veramente Scusatemi Ma Questa non l'ho capita Adesso mi è caduta Di nuovo la roba Nella lava Ma perché Devo sclerare Così un episodio Cioè Questo è In assoluto Non solo l'episodio Ma la mia partita Dove sono morto di più Sicuramente Allora Andiamo di qua Oh l'ho detto di nuovo Andiamo di qua Guardate che strano Opa Opla Guardatelo là Infame Maledetto Eh Oddio No Oddio No 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 Vaffanculo No Perché devo sclerare così Ditemelo voi Perché devo sclerare così Con calma Non c'è fretta Gli ammazzerei Mani nude Tranquillo C'è un creeper Pazienza Anche il creeper Si ammazza Mani nude Si Anche il creeper Oddio Madonna mia Aiuto 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 Che cacchio è Eh si Si spawna ancora qualcuno Cioè mi si spawna In faccia i mob ragazzi Oddio Ma perché 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 Tutte quante A me Guarda davvero Questa qua Non le capisco Perché devo avere Tutte le sfighe del mondo Tutte le sfighe Per No ma perché L'ho rifatta Oddio Sto andando in botta Ragazzi In questo episodio Sto andando in botta Allora Rimettiti un po' di armatura Vai giù Stai calmo Logicamente Corri Cioè ma non è possibile Questo qui è veramente Il video dove sono morto Più volte in assoluto Non mi è mai capitato Di morire tante volte così È È Proprio Una cosa assurda ragazzi È indescrivibile Morire tante volte così Allora Scendi giù Per favore Adesso vado a dare Gli spacco veramente Il sedile a tutti Ma te cosa risali Andate via Ma Allora Con calma Se sparate Intanto siete solo Tremila Settecento Novanta Sette Cretini Del Kaiser Calma 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 Eeeh Eeeh Quanti siete Quanti sono No no Guardate quanti sono Sti zombie Ammazzatevi Che vicenda Bravi No Ok Ho detto E' bruciata pure La roba Nella lava Ah no è la Ok perfetto Si era bucciata pure Ah a parte che ce l'ha Le torce Quelle qua Si Che ca No No ti prego E' uno spider jockey Quello Ti prego dimmi che non è uno spider jockey Perché veramente io La pizlazzuli E baby zombie Che non manca mai Allora Riorganizziamo un secondo alimentario Per favore Rimettiamoci un minimo di armatura Una spada di inventario Un piccone Tanto sclero Tanto sclero Del cibo Che mi serve Ahimè urgentemente L'arco Che è importantissimo Torce Cubi Cubi Secchio d'acqua Ok adesso sono pronto a fronteggiare le minacce Le future minacce Allora Vediamo un attimo Se ti levi magari Oh Quanta bella roba Si Te perché si è spawnato lì Cioè Non puoi spawnati lì Non è il tuo posto Oddio Quante cavolo di Adesso ho appiazzato la torcia Ok perfetto Ok Vediamo un attimo di poter Entrare Ok Si grazie Morite tutti Si è stato un piacere Grazie Un altro dungeon Si lo so È stato molto bello Ma Allora Ma per cui Non state fermi Un secondo Ma davvero oggi ragazzi Sclero totale Sclero totale per me oggi Ok E se non gli dispiace Ammazzerei pure lei Ok ragazzi E questo è il secondo dungeon Di un mondo di cubi Si direi che qua Lo screenshot Non ce lo toglie nessuno Un bello screenshot Così F1 E F10 No F10 no Ho cambiato Il comando Comunque un altro dungeon Very very good Allora Come facciamo adesso Tipo Noi lo apriamo Senza dopisensi Eh si lo so Che voi siete dei Dei molestatori Con i dopisensi Veramente Ci date dentro Però No Dopisensi no 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 e no Allora Non so come farò una fame di ragni La farò sicuramente Oddio I progetti veramente Stanno aumentando Di smisù Vieni No è che Mi è venuta la fobia degli scheletri Ragazzi In questo episodio Non ci provare Adesso mi arriva un ninja creeper Ok E mi uccide Ok Qua bisogna illuminare tutto perfettamente Lo so Sti canyon così Sono veramente La cosa peggiore Che si può trovare Però Cioè sono fonte di Fonte di risorse Qua c'è tanta bella roba Guarda Ehi Signore Cosa sta facendo Grazie No grazie per essere Ancora qualcuno Ma si Dai Scoppia tanto Diamante 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 Ok ragazzi Stiamo calmi Ho trovato poi del diamante Eh si Diamante Screenshot Screenshot al diamante Guerra contro i zombie Adesso mi arriva un creeper Fa scoppiare il diamante Voi scherzate ma arriva davvero No adesso L'arrivo in un botto di zombie però Morite Maledetti Allora diamante 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 Cioè oddio Cioè oddio Non l'ho capito Comunque va bene Odiaz Odiaz Ammazzatevi Vieni Opa Opa Lol Si non uscivo mai da questo buco Vero No Comunque il mio diamante Adesso me lo piglio Andate quel Io ora Sirius Un diamante Solo Non è possibile Perché Ste sfighe A me Oddio Eh va Vaffanculo Adesso te lo dico veramente Vaffanculo Allora Che scleri ragazzi Eh no non è normale Lo so anche il dottore Ha detto che non è normale Che dovevi smettere di giocare a Minecraft Perché causa crisi Isteriche Allora Di qua I miei famosissimi lapislazzoli I miei famosissimi E bellissimi lapislazzoli Lapiscazzoli Meglio Lapiscazzoli Cioè la redstone La redstone La chiamiamo redstones E adesso I lapislazzoli Li chiamiamo lapiscazzoli No allora Mi sembra che l'aveva già fatto qualcuno Non mi ricordo Diamante Non ci credo Ma che culo Ma che culo Ebbè E' giusto E' giusto trovare così Così diamante Perché Dovevo già trovarlo Ah no Pensavo ci fosse un altro diamante E tipo sarei schizzato malissimo Allora Thank you Thank you Oh grazie Grazie A tutti gli dei Grazie Alleluia Oh guardatelo E guardatelo qua Tutto diamante Trullallero Ok ragazzi Vi dico già che Farò tanto lavoro off camera Perché porterò A fine Quella farm Di Di scheletri E farmerò tanto come un matto E canterò un sacco di oggetti In ferro Ed veramente ci vorrà tanto Comunque ragazzi Direi che questo video Ahimè E' giunto al termine E Spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo dato 7 diamanti 7 diamanti Ragazzi Veramente un bel bottino Diciamo che è il nostro primo bottino Sono morto veramente tante volte Quindi Come episodio Mi ha deluso un pochettino Comunque Dove in avanti cercherò di non morire Ragazzi Devo cercare di morire Anche se E so che non ce la farò Vero Lo sappiamo tutti Lo sappiamo tutti Comunque Da me appunto è tutto Da signor Fairfordwin Io come a solito Vi ringrazio Vi invito a lasciare un like Perché come sapete Youtube è stronzo E Vuole Che assolutamente Tutti mettano like E Un creeper E un creeper Si Creeper Lei che cosa ha da dire Vuole morire così Senza neanche Tentare di esplodere Va bene Io qua continuerò A esplorare Tornerò su Ripulirò le zone esplorate Adesso qua Pure la caverna Finisce Perfetto Quindi Il sottoscritto Comincia a Piliare tutta la roba E Vi saluto Punto a video Appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti